bravo francesco dai fatti vedere è una magneta di artigli non penso la possa mettere tu magari qualche ragazza non la volete dare a lui? no non penso secondi terzo cosiddichetto dove sono i terzi? stanno per arrivare? eccoli qua arrivano un abbraccio allora qui oh vieni qua anche tu qui qui oh vieni qua anche tu qui vicino a lui e qui chi li tira? chi li tira? i ragazzi prego loro la possono mettere guardate non vi posso dare più di 30 secondi ma soltanto 30 secondi per indossare la maglia fermi al mio via attenzione deve rimanere nella busta deve rimanere tutto nella busta 30 secondi sono fatto 1-2-3 via vediamo di indossare la maglia la maglia di s***a stalla veloce 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 vediamo chi vince e lei mi sa capito prima i terzi classificati che fate? primo secondo è perso è femminile ma può essere anche maschile stasera che c'è frega tira giù fatti vedere facciamola vedere guardate che bello a chi sta meglio al primo al secondo e al terzo modello? girate questo signore con la maglia rossa che devi fare la foto eh facciamola foto ma devi fare una bella foto grazie ragazzi eh complimenti grazie grazie mille c'è anche Rosa che va insieme a loro abbiamo scherzato ho giocato con loro devo dire sono stati molto simpatici e molto bravi benissimo seconda